ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta match attacks 2023-2024 di tops perché è arrivato un pacchetto e noi questa volta ci riproviamo dopo aver trovato la carta fantastica carta di jude bellingham abbiamo acquistato sul sito inglese e ci è arrivato il pacchetto del web wednesday che potrebbe contenere la carta di gimenez ne sono soltanto 100 le carte di gimenez 45 fortunati ordini troveranno questa carta ecco qua il nostro box che contiene i due ecopack e speriamo che troveremo proprio la carta di gimenez prima di andare a spacchettare questo bello scatolino ragazzi io vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è gratuita a voi non costa niente aiutate soltanto me a portare contenuti più nuovi e interessanti per voi attivate la campanella per maniere informati su tutti i video le novità che andrò a portare sul canale soprattutto nella sezione dedicata alla community tante info e tante novità in uscita e soprattutto schiacciate un bel like a questo video e una volta che vi ho dato tutte le solite informazioni mettiamo da parte il nostro raccoglitore che già ha un buon punto e direi di ripartire con lo spacchettamento di questo box due ecopack e dovrebbe esserci anche un pacchettino extra e in più se siamo fortunati la carta gold rush limitata ultra limited a 110 minutes sfidiamo la fortuna e andiamo a vedere che cosa troviamo allora mi sa che non abbiamo trovato niente però ci andremo attenzione ragazzi attenzione eccola qua doppio colpo dopo jude bellingham abbiamo trovato anche la gold rush di santiago chimenez del feienord eccola qui numerata 46 di 100 abbiamo trovato anche lui che bomba ragazzi solo 45 ordini fortunati trovavano questa carta e noi siamo tra quelli dopo bellingham anche la gold rush di chimenez del feienord che colpo mamma mia ragazzi altra carta veramente veramente molto rara abbiamo visto i valori di queste carte su internet sono elevatissimi intanto qui abbiamo ben due multi pack ce ne andiamo ad aprire tutti insieme perché sono tre pacchetti in ogni multi pack in più una carta limited edition bonus partiamo con il pacchettino che era buttato così nello scatolo allora andiamo a vedere subito che cosa troviamo dietro il codice abbiamo un po di carte base poi e poi e poi una carta cristal parallel di calabria per il milan e poi abbiamo la battler di verratti e la man of the match di tapsoba del leverkusen quindi un po di carte base e una man of the match che mettiamo da parte e a questo punto ci andiamo ad aprire anche i due eco pack abbiamo detto tre pacchetti e una carta limited edition all'interno di ognuno di questi pack vi ricordo il costo di questi pack 7 euro e 49 l'uno e il bundle il web wednesday ci è costato circa 14 euro e 99 più il costo delle spese di spedizione allora abbiamo il primo pacchetto con la limited edition ci apriamo anche il secondo eccole qua le altre carte abbiamo tre pack e la carta in edizione limitata mettiamo via i pacchetti e partiamo subito con lo spacchettamento codice poi abbiamo carte base ancora carte base la carta di pellegrini capitano la finisher di bowen e ancora una man of the match e martin odegaard quindi niente di che in questo pacchetto andiamo avanti e continuiamo col pacchetto numero 2 codice e tante carte base allora vediamo se troviamo qualcosa di interessante lo stemma del newcastle già ne abbiamo trovati diversi la battler di alcantara una legendary moment e sotto c'è pepe la carta heritage del giocatore del porto quindi altra buona carta andiamo avanti e continuiamo a spacchettare allora troviamo timber altre carte base olivia giru poi abbiamo la carta di calabria anche in versione non parallela però abbiamo trovato un'altra parallela e william carvaio del betis la mettiamo da parte e poi abbiamo la next gen di zeremeri convocato dalla nazionale francese e marcus rashford finisher per il manchester united andiamo avanti e siamo a quota 4 con questi pacchetti vediamo un po abbiamo pedri poi 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 abbiamo un'altra carta finisher e robertone levandoschi e a terminare un'altra man of the match e ecco che per l'atletico madrid carta heritage ultimi due pacchetti prima di passare alle carte limited edition allora abbiamo ancora per il feo nord carte base poi vediamo un po ancora lo stemma del newcastle ragazzi ve l'ho detto ne avrò trovati 6 o 7 playmaker e fernandez poi abbiamo la carta legend cult hero di perez e sotto ancora una carta heritage ed è rodri mi sa che questa ci manca portiamo a casa un'altra carta di taglio e niente però non abbiamo trovato fino adesso carte come le black edge quindi ce ne manca ancora qualcuna lo stemma del barcellona non ricordo se mi manca la battler di casemiro una man of the match e ancora una carta heritage e le roi sané per il bayern come è successo l'altra volta con la carta di bellingham direi che se non fosse per la gold rush questi pacchetti sono stati abbastanza deludenti ma la carta gold rush cambia completamente tutto andiamoci a guardare questa limited allora è la real madrid ed è ed era militao questa ci manca è la limited edition numero 12 portiamo a casa una gran bella carta ed era militao che va dritta in collezione e secondo e ultimo pacchetto limited per questo video abbiamo la carta di real sociedad e bryce mendez limited edition numero 22 anche questa è una limited che ci manca quindi direi che lo spacchettamento è andato molto ma molto bene e a questo punto ragazzi direi di andarci a riguardare questa carta eccola qui una carta rarissima nel suo card protector abbiamo trovato la numero 46 di 100 e la gold rush di kimenez e la gold rush numero 6 fantastico ragazzi sono molto ma molto contento abbiamo trovato una carta rarissima e con queste carte ragazzi io posso anche andare a salutarvi ma prima di passare i saluti vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale di attivare la campanella e schiacciare un bel like a questo video e detto questo con la raccolta match attacks di tops 2023 2024 e soprattutto con lei la gold rush di santiago kimenez ultra limited edition a 100 io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao